Il corso online al quale ti invito e sei iscritto è gratuito e realizzato dall'ente bilaterale Turismo Toscano con il contributo dell'ente bilaterale nazionale del turismo. È intitolato Economie emergenti e scenari complessi. Quale ruolo per l'Italia? Il corso ti permetterà di avere informazioni sulle economie emergenti e confrontare dati e informazioni su paesi BRICS e non solo. Analizzare i dati gli scenari delle grandi economie mondiali nell'epoca della globalizzazione ti permetterà di comprendere l'importanza di adattare alcuni servizi in base a nuovi scenari. Inoltre, un capitolo intero verrà dedicato al ruolo dell'Italia e a come questa può competere con le grandi potenze e a come le aziende di settori possono diventare competitivi. Il corso consiglia anche alcune letture per approfondire gli argomenti trattati. Ricordiamo che il corso è realizzato dall'ente bilaterale Turismo Toscano con il contributo dell'ente bilaterale nazionale del turismo. Ora puoi cominciare il tuo corso e ricordati di fare il test finale, così potrai scaricare l'attestato. Se sei un utente registrato in incontro www.turismolavoro.it, il software di EBTT per la ricerca di lavoro nel turismo in Toscana, la tua formazione verrà registrata nel tuo profilo con il marchio di qualità di EBTT. Buon lavoro!